La relazione della Presidente Caterina Crescenti ha inaugurato l'anno giudiziario del TAR sezione staccata di Reggio Calabria. Crescenti ha illustrato e commentato i dati dell'attività del 2023, in cui ha detto sono pervenuti 661 ricorsi, 10 in più rispetto al 2022. Il lieve calo ha conferma della diminuzione già registrata nel corso del 2022 le istanze cautelari e quelle collegiali, presenti in poco più di un terzo dei ricorsi depositati. Un dato quest'ultimo singolare ha aggiunto perché in controtendenza con quanto avvenuto nel 2021 e rispetto a quanto si registra in ambito nazionale, dove di contro i ricorsi in ingresso sono in flessione e le domande cautelari in aumento. La Presidente della sezione del TAR ha indicato tre fattori che motivano questa tendenza. La natura del contenzioso reggino, in primis, ha detto, i giudizi di ottemperanza, il secondo individuabile nella prontenza e tensione con le quali vengono esaminate le istanze di prelievo, infine, i tempi a quanto celeri del contenzioso che il Tribunale garantisce per la fissazione del ricorso sino puntuale deposito della sentenza. Dei 661 ricorsi presentati, 260 risultano già esaminati e definiti.